Prepariamoci a girare, grazie. Roll sound. Blocco 181. Stop, stop, stop. Sono Laura Osma, in blocco 181, sarò bene. Sono Alessandro Gavani, interpreto Ludo. Mi chiamo Andrea Dudero, interpreto Madi nella serie. 114 di quarta. Ciao. Ah, mira che andassi ando a chi? Va bene, andiamo più dentro. Eh, faccio. Ah, mira che andassi ando a chi?